carissimi amici e amiche bentornati a una nuova puntata del ciclo di catechesi bibliche dedicato all'antico testamento che oggi ci vedrà conoscere la già nota presumo per almeno molti di noi figura di mosè faremo una breve carrellata ecco per descrivere un po sinteticamente cosa accadde da abramo fino a mosè insomma circa 500 anni di storia insomma non è proprio tanto tanto poco però dovremo necessariamente andare un pochino per sintesi perché capite che un ciclo di catechesi biblica sull'antico testamento se si dovesse veramente a seguire la lettera tutto l'antico testamento penso che andremo avanti sette otto anni non dico quindi necessariamente si devono fare delle delle scelte diciamo che questo ciclo ha un pochino uno scopo introduttorio evidentemente come sempre catechetico e che anche dia delle chiavi un pochino una un quadro con la lettura di alcuni passi scelti perché il mare magnum della saga scrittura capiamo che neanche se uno si dedicasse tutta la vita soltanto a fare questo riuscirebbe come dire in qualche modo a ad esaurire la navigazione in queste acque così grandi anche perché sono tantissime le cose della saga scrittura che rimangono oscure per i suoi misteriosi disegni il signore molte volte rivela anche cose di difficilissima decodificazione e comprensione su tanti passaggi su tanti libri si sono cimentati e hanno lavorato profondamente acute ecco sono riusciti a trarre fuori qualcosa anche da da passi veramente oscuri ecco ma è una sorgente inesauribile quindi necessariamente dobbiamo muoverci in questo orizzonte ci aiuteremo come sempre ecco adesso tra poco cominciamo la condivisione dello schermo sia con un pochino di slide che ci aiutano a orizzontarci un po' sia evidentemente la cosa principale la lettura e il commento dei testi non so sinceramente se riusciremo con un'oretta a esaurire l'argomento perché cercherò di essere sintetico ma non si può neanche correre troppo quindi adesso non perdo più troppo tempo in introduzioni e in chiacchiere comincio la condivisione dello schermo andiamo a vedere un po' quello che faremo questa sera bene il tema che affronteremo appunto Mosè e l'Esodo eventi assolutamente fondamentali proprio di un'importanza straordinaria e capitale per quanto riguarda la storia della salvezza e in particolare la storia del popolo di Israele prima di arrivare evidentemente a Mosè abbiamo appunto diverso la grande domanda poi che ci si fa è ma come si arriva fino a Mosè cioè che cosa succede no cosa fa come fa il popolo di Israele a un certo perché sono gli ultimi 30 capitoli del libro della Genesi e in particolare poi il cibo di Giuseppe Giuseppe figlio di Giacobbe che è una figura peraltro del nostro grande San Giuseppe perché attraverso Giuseppe la vicenda di Giuseppe che diciamo così Israele si affaccia in Egitto prima attraverso Giuseppe stesso che viene venduto per invia dai suoi fratelli a mercanti che lo portano in Egitto e poi cade nelle grazie del faraone e diventa il suo primo ministro ma poi a seguito della grande carestia venuta in tutto il popolo di Israele che costringe Israele proprio a regarsi dove c'erano le riserve di grano cioè in Egitto in cui paradossalmente il custode e l'amministratore era Giuseppe quindi c'è la scena commovente del libro della Genesi che a un certo punto i fratelli di Giuseppe di Giuseppe, si possiamo chiamarlo Giuseppe Santo anche lui, basta che ci comprendiamo lo incontra e lui evidentemente riconosce loro ma loro non riconoscono lui non si immaginavano mai che il fratello avrebbe fatto carriera e que carriera insomma in Egitto e poi c'è la commovente diciamo così il commovente riconoscimento reciproco il perdono anche di San Giuseppe ai suoi e la lettura soprannaturale questa è una cosa molto bella adesso ho saltato un po' dopo ci torniamo mi sa che Giacobbe è così che a un certo punto Giuseppe dice vedete la vostra cattiveria insomma la vostra invidia mi ha fatto vendere e arrivare qui però se io non fossi arrivato qui adesso tutti voi fratelli miei sareste morti tutti quanti di fame perché ci sto io adesso qui e quindi la storia di Giuseppe è anche una delle tante attestazioni bibliche della grande e consolante verità che Dio scrive sempre dritto sulle nostre righe storte anche sulle vicende veramente insulse drammatiche quindi la storia, quello che hanno fatto i fratelli di Giuseppe nei confronti di Giuseppe è assolutamente vergognoso, ignominioso però nonostante questo ciò è stata la salvezza per il popolo di Israele attraverso questo è stato forzato quindi questo ingresso forzato poi Israele si stanzia in Egitto e poi dopo poco viene reso schiavo e se schiavi tu va avanti lo vedremo mica per una settimana per 500 anni, diconsi 500 anni prima che il Signore si muova con passione si ricordi dell'alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe e attraverso Mosè scenda in campo per liberare il suo popolo ora, prima di Giuseppe sappiamo che abbiamo visto da Abramo alla fine nasce il suo figlio Isacco e Isacco è il figlio della promessa la storia di Isacco è sposa Rebecca e da Isacco nasce Giacobbe Giacobbe è una storia importantissima perché Giacobbe, come dicono i padri della Chiesa Abramo misticamente rappresenta la chiamata di Dio vattene dalla tua terra ma Giacobbe rappresenta l'elezione la figura di Giacobbe è una figura molto complessa molto misteriosa attenzione, tutta quanto una serie di questi passaggi ma questo comincia già con Abramo noi non possiamo guardare l'Antico Testamento con gli occhi razionalistici nostri e del nuovo per esempio la vicenda di Giacobbe il modo con cui lui rapisce la prima genitura quindi le menzogne che racconta perché lui di fatto si spaccia per Esau con la collaborazione peraltro della madre quindi è perché c'entra molto insomma c'entra molto Rebecca insomma in questo e anche tutte quante le vicende nella storia tra Giacobbe e Labano quindi tutti quanti i sotterfuggi gli impicci per riuscire a sposare la Chele quindi allora noi possiamo dicere mamma mia che Giacobbe sarebbe santo ha fatto un sacco di inganni ha carpito la prima genitura con la frodi come fa un uomo del genere ad attirare la benedizione di Dio perché poi cioè nel famoso episodio del combattimento di Giacobbe con il Signore al torrente dello Yabok a un certo punto il Signore prevale gli rompe il femore e gli cambia il nome e il nome di Israele questo non tutti lo sanno deriva proprio da Dio perché Dio cambia il nome di Giacobbe in Israele e gli spiega anche dando diciamo una possibile etimologia del termine Israele Israele significa forte con Dio è appunto Dio e dice perché? perché è lottato con Dio e ha vinto questo misterioso combattimento anche il sogno di Giacobbe la scala di Giacobbe tutti quanti questi passaggi sono stati misteriosi sono tutti quanti passaggi molto misteriosi sono stati oggetto fin dai tempi della patristica di interpretazioni che oggi noi chiameremmo mistico allegoriche per esempio la scala di Giacobbe c'è tutta una corrente immensa letteraria che nella scala di Giacobbe ci ha visto la Madonna un'immagine della Madonna quindi su cui scendevano e salivano gli angeli una scala che porta diretto al cielo tanto per dire per fare un esempio nella vicenda così tanto ai nostri occhi intrigata insomma di come Giacobbe carpisce la prima genitura a distacco quindi con l'inganno perché con la complicità della madre di Rebeca si spaccia per esausi traveste si mette lo copre con un cammino allora basta andare a leggere il trattato della vera devozione di San Luigi Maria Monfort che addirittura in tutta quella vicenda le danno interpretazione dice sai cos'è la storia di Giacobbe era una prefigurazione della vera devozione alla Madonna perché quello che Rebeca fa con Giacobbe che è immagine dei predestinati ripeto l'interpretazione unanime di questa figura è appunto il predestinato l'elezione la persona cara a Dio che non soltanto chiama ma elegge cosa dice Gesù nel Vangelo molti sono chiamati ma pochi gli eretti e pur nella sua vicenda così come dire intricata così complicata Giacobbe è l'immagine del cuore che piace a Dio e su cui cade la sua elezione e l'elezione è talmente grande e il popolo di Israele certamente che nasce da Abramo ma le dodici tribù di Israele sono formate dai dodici figli di Giacobbe alcuni con Lia ed altri con Rachele le due mogli di Giacobbe capiamo quindi immaginate l'importanza di questo grandissimo patriarca ecco il figlio prediletto di Giacobbe era Giuseppe così ci raccordiamo a Giuseppe che abbiamo un attimo accennato e proprio perché era figlio prediletto come sempre accade sapete che Giuseppe è stato visto dai padri della Chiesa certamente come immagine di San Giuseppe sposo di Maria ma anche come immagine di nostro Signore Gesù Cristo c'era Maria Pasquale di Meritone di Salvi un pezzo bellissimo dei primissimi tempi del cristianesimo che Giuseppe è stato venduto ma anche Gesù è stato venduto è stato venduto perché Giuseppe per invidia ricordiamo i Vangeli lo sapeva bene Pilato che glielo avevano consegnato per invidia quindi l'invidia che subisce Giuseppe e la vendita sono eventi che si sono riprodotti poi il nostro Signore Gesù Cristo allora questo modo di approcciarsi alla Sacra Scrittura che oggi vi dico subito nell'esegesi contemporanea è stato completamente abbandonato la cosiddetta lettura allegorica spirituale ma che ha caratterizzato la lettura della Bibbia per millenni interi oggi purtroppo e io dico purtroppo sono sicuramente una voce fuori dal coro certamente non incontrerei il favore dei biblisti o di cose di questo genere oggi l'approccio diciamo così universale è quello cosiddetto anche nella Sacra Scrittura scientifico i cosiddetti metodi critico-storici in tutte quante le varianti che poi hanno sono andato assumendo in questi anni quindi molta scienza molta erudizione molta filologia molta archeologia non solo molta molta attenzione alla lettera dei testi quindi ai testi originali evidentemente questo approccio presenta degli aspetti positivi però molte volte si perde completamente la la dimensione più importante cioè questa è parola di Dio intrisa di tanti di quei misteri che non vengono compresi come dire attraverso la razionalizzazione o la scientificità metodica come dice San Paolo la lettura spirituale la lettura allegorica si fa per mezzo dello Spirito Santo ed è chiaro che da un punto di vista scientifico nazionale non ha pezzi di appoggio cioè accostare la figura di Rebecca e di Giacobbe come fa San Luigi in Monfort alla vera devozione alla Madonna da un punto di vista scientifico è un fenomeno del tutto arbitrario dice questo è un'idea sua personale ma del tutto strampalata ma capiamo quindi anche cioè il tipo di approccio che si deve avere nei confronti della Sagra Scrittura tante profezie che sono dichiarate compiute da Gesù adesso una una su tutte la profezia la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele letteralmente parlando quella si riferisce alla vicenda del re Achaz non c'entra niente letteralmente parlando la Madonna e cose del genere eppure eppure quella pagina è citata dagli evangelisti dai sinottici soprattutto per dire quella profezia che storicamente certo che si riferiva in un primo livello alle vicende del re Achaz ma era stata formulata per per nostro Signore Gesù Cristo se uno va a vedere il contesto per esempio della nascita di Gesù a Betlemme tu Betlemme non sei davvero la più piccola delle città di Efata dentro il contesto di questa profezia mai cioè quindi prendere un versetto estrapolare un versetto e applicarlo ad un evento che accade molti anni dopo da un punto di vista scientifico ma questa è tutta quanta è tutta come dire la lettura vitro testamentale che fanno gli evangelisti non gli evangelisti cioè i quattro evangelisti non gli evangelisti attuali ecco questo per per comprendere anche un po' voi capite cioè che che roba quindi è chiaro che un minimo di competenza la conoscenza delle lingue originali la conoscenza della storia certamente anche di alcuni aspetti derivanti dall'arteologia è utile alla comprensione del senso letterale che è comunque molto importante nei testi biblici anche perché la chiesa ha sempre difeso la letteralità dei testi e la storicità dei racconti che per esempio nelle segesi razionalisteggiano perché poi si fa presto a passare dallo studio scientifico al razionalismo e poi fanno le mail a Don Leonardo ci sono stati al corso di teologia biblica hanno cominciato a dire che il Mar Rosso non si è aperto che Mosè non si sa se è esistito che Abramo sicuramente non è esistito quell'altro non è esistito quell'altro così quell'altro eccola Giona non esiste perché quella è una favoletta tutte ste robe qui che sono teorie basate secondo qualcuno sulle risultanze degli sottodi scientifici d'accordo ma contraddette totalmente da duemila anni di tradizione e ritorna quindi sempre lo stesso problema che poi sta a noi scegliere di chi fidarci se dei sapientoni e degli intelligentoni come li chiama Gesù nel Vangelo che oggi si pensano di capire tutto oppure di persone meno con meno rosopopea quindi con meno ambizioni ma che ci hanno che ci hanno avuto alle spalle una tradizione costante che è andata avanti nel corso del tempo io proprio a pelle nonostante che conosco bene conosco abbastanza perché ho fatto gli studi quindi poi penso che vi accorgiate anche quando le lingue bibliche le conosco le ho studiate il greco fin da quando andavo al liceo l'ebraico l'ho studiato durante il corso di studi teologici sono stato un mese e mezzo a Gerusalemme a approfondire l'ebraico e poi lo tengo continuamente diciamo così vivo ripassandolo perché sarà una lingua molto molto complessa quindi non puoi però non basta questo per la comprensione dei testi biblici ci vuole lo spirito santo ora prima di passare alla storia c'è un passo della Genesi che sta inserito dentro il ciclo di Giuseppe cioè tre capitoli 37 e 50 che è molto importante perché presente il peccato dell'onanismo siccome è una cosa molto diffusa bisogna leggerlo anche se farà venire il mal di mancia a qualcuno perché è utile per la nostra formazione e quindi cambiamo un attimo condivisione di schermo e passiamo al programma di Sagra Scrittura con cui andiamo a vedere Genesi 38 ok allora comincio la presentazione guardate leggiamo il testo diciamo così perché non è tanto importante qui il testo in italiano dalla versione della CEI del 2008 la più recente a quel tempo Giuda Giuda è uno dei figli di Giacobbe attenzione da Giuda Giuda è figlio di Giacobbe dalla cui tribù deriva il nostro Signore Gesù Cristo perché Giuda nel corso della storia sarebbe stata la tribù di Davide la tribù regale i re vengono da Giuda la Giudea anche viene da Giuda non Giuda Scariota Giuda figlio di Giacobbe ok allora in quel tempo Giuda si separò dai suoi fratelli e si stabilì verso un uomo di Adurlam di nome Chira qui Giuda notò la figlia di un cananeo chiamato sua la presi in moglie e si unì a lei e la concepì e partorì un figlio lo chiamò Er concepì ancora attenzione partorì un figlio lo chiamò Onan attenzione a Onan ok ecco qui il termine ebraico no ma proprio Onan ok che era quindi attenzione un figlio di Giuda ok ancora una volta altra volta porto di un figlio lo chiamò Sela si trova a Chezib quando lei partorì Giuda scelse per il suo primo genito Er una moglie che si chiamava attenzione Tamar ma Er primo genito di Giuda si reso Dio sugli occhi del Signore e il Signore lo fece morire e quindi che cosa succede muore il marito di Tamar e quindi conformemente alle tradizioni metrotestamentari cosa succede allora Giuda disse a Onan va va con la moglie di tuo fratello compi verso di lei il dovere di cognato e assicura così una posterita a tuo fratello ok attenzione a questo passaggio ma Onan sapeva che la prole non sarebbe stata considerata come sua e ogni volta che si univa alla moglie del fratello disperdeva il seme per terra per non dare un discendente al fratello in ebraico vedete veshichet arzakh le biltì netan zera seme le chaiotte ok attenzione andiamo avanti non c'è bisogno di spiegare cosa significa disperdere il seme per terra ha un nome tecnico questa operazione anche oggi ciò che egli faceva era male agli occhi del signore il quale fece morire anche lui va ira quindi fa fare il male quindi Adonai quindi era male agli occhi del signore quello che faceva asher asa vajamet gam otto morire mot e fece morire questo è un ifil attenzione questa è una cosa molto bella in ebraico esiste una forma verbale che è l'ifil che è il causativo quindi quando si trova il verbo ifil si deve tradurre mavet mot vuol dire morire ma qui c'è vajamet che è l'imperfetto ifil quindi ma il signore fece morire anche fece morire si traduce perché appunto l'ifil è un causativo tutte le volte che si trova questo verbo in italiano dobbiamo tradurlo come una azione causata quindi era male questo agli occhi del signore bene Adonai asher asà quello che lui faceva vajamet gam otto e quindi fece anche lui morire fine della citazione perché ho letto questo brano semplicemente perché molte persone pensano che quello che oggi si chiama il coito interrotto sia uno strumento lecito per la regolazione delle nascite invece tu si racconta l'accezione no noi non usiamo niente quindi niente pillole niente profilattici niente spirali niente peggio ancora chiusura delle tube e roba del genere no non facciamo niente ma il coito interrotto è gravemente intrinsecamente cattivo perché è una chiaramente modalità contraccettiva nel senso prima che esistessero tutti quanti questi strumenti moderni come si faceva a evitare le nascite così ma addirittura tanto è vero che teologicamente in teologia il coito interrotto si chiama onanismo onanismo che sarà sta roba qua perché era il peccato di onan che si univa alla moglie e disperdeva il segno per terra perché i figli che sarebbero nati spiega il testo della genesi siccome lui si univa a questa donna perché era la moglie del fratello e doveva dare una discendenza al fratello non gli andava di dare una discendenza al fratello quindi figli che fossero ritenuti non suoi e quindi disperdeva in modo tale che lei non avesse una gravidanza quindi non solo che è peccato mortale ma è mortale fino al punto che ciò che faceva agli occhi del signore era male e lo fece morire quindi più chiaro di così quindi questa è una cosa quando c'è un passo biblico di questo genere il discorso è chiuso quindi se uno trova il confessore se Dio non voglia scriveva Pio Undicesimo nella casta di Connubi che dice preoccupare non fa niente sappia che il confessore non ha un'autorità superiore alla sacra scrittura neanche il Papa potrebbe dire non fa niente questa è cosa questa è cosa su cui non è ammessa discussione uno può accettarla o può non accettarla ma non è cosa su cui è ammessa discussione stante la chiarezza di questo testo bene torniamo adesso a all'Esodo e andiamo a vedere il primo capitolo del libro dell'Esodo che è importantissimo perché ci dà un pochettino alla situazione in cui Israele versava prima ecco della vocazione di Mosè che poi si vede nei capitoli seguenti andiamo a Exodus 1 allora questi sono i nomi dei figli di Israele entrati in Egitto e si giunsero insieme a Giacobbo ognuno con la sua famiglia come accennavo precedentemente quindi si giunsero a Giacobbo insieme con la sua famiglia in conseguenza della grande carestia e poi lì sono rimasti ok ed ecco i dodici figli di Giacobbe Ruben Simeone Levi Giuda Issacar Zabulon e Beniamino Dan Neftali Gad e Aser tutte persone discendenti da Giacobbe in totale 70 Giuseppe si trovava già in Egitto il dodicesimo questi dodici figli danno origine alle dodici tribù di Israele diciamo le più famose sono la tribù di Levi questo perché la tribù di Levi sarebbe stata quella i Leviti penso che avrete sentito nominare questo nome Levi quelli dedicati al culto del Tempio dalla tribù di Levi venivano tratti appunto i Leviti e i sacerdoti era la tribù sacerdotale il sacerdozio levitico San Paolo in lettera agli ebrei comincia a spiegare che Gesù non è la sacerdote dell'Antico Testamento il suo sacerdozio non è il sacerdozio di Levi ma è il sacerdozio al modo di Melchisedec quindi sta completamente fuori di questa linea perché il sacerdozio levitico non ha riguardato il nostro signore il nostro signore non era della tribù di Levi ma era della tribù di Giuda cioè della tribù regale molto interessante questo qui ok Giuseppe poi morì e così tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione i figli di Israele che succede prolificarono e crebbero divennero numerosi e molto forti e il paese ne fu pieno allora sorse sull'Egitto un nuovo re quindi un nuovo faraone che non aveva conosciuto Giuseppe e gli disse al suo popolo wei il popolo dei figli di Israele più numerosi più forti di noi cerchiamo di essere avvetuti nei suoi riguardi per impedire che cresca altrimenti in caso di guerra si unirà ai nostri avversari combatterà contro di noi e poi partirà dal paese e quindi perciò vennero imposti di loro dei sovraintendenti ai lavori forzati per opprimerli con le loro angherie e così costruirono il faraone nel città deposito cioè Pitom e Ramses ecco poi il segno diciamo della benedizione dell'altissimo ma quanto più opprimevano il popolo e tanto più si moltiplicava e cresceva ed essi furono presi da spavento di fronte agli israeliti qui da spavento di fronte agli israeliti letteralmente erano terrorizzati d'accordo di fronte agli israeli proprio il verbo è proprio in inglese to loath to dread proprio non è una piccola pauretta abbastanza insomma una cosa abbastanza profonda quindi un incubo era diventata la presenza dei figli di israeli per questo gli egiziani piaceranno lavorare gli israeli trattandoli con durezza dopodiché qui chi ha visto per esempio Ben-Ur lo no non Ben-Ur scusate i dieci comandamenti quello famoso con Charles Toreston si vedono benissimo queste tutte queste scenette no resero amare alla vita quindi gli dicono di fabbricare i mattoni eccetera eccetera il re d'Egitto dice ordina alle alle levatrici degli ebrei di gettare al fiume i figli maschi possono vivere soltanto le femmine il problema è che le levatrici non obbediscono a questo comando versetto 17 le levatrici chiaramente egiziane dicono ma guarda le donne ebrei non sono come le egiziane sono pieni di vitalità e prima che noi giusiamo da loro hanno già partorito ecco e per questo Dio le beneficano ecco ma alla fine il faraone anziché desistere c'erano buttate nel nilo ogni figlio maschio e qui nel capitolo secondo comincia la storia di Mosè tutti quanti credo che più o meno la conoscono ma che succede un uomo della famiglia di Levi attenzione Mosè appartiene e anche Aron appartiene alla tribù di Levi quindi Mosè era sacerdote secondo il sacerdozio levitico e non solo tribù di Levi il padre tribù di Levi la madre la donna concepì e partorì un figlio vide che era bello e lo tenero nascosto per tre mesi ma non potendo tenere nascosto più oltre se non glielo avrebbero buttato e ucciso buttandolo nel nilo prese per lui un cestello di papiro lo spalmò di bitume e di pece riadaggiò il bambino e lo depose fra i giunchi sulla dita del nilo la sorella del bambino si posse ad osservare da lontano che cosa gli sarebbe accaduto ora figlia del faraone scese al nilo per fare il bagno mentre le sue ancelle passeggiavano lungo la sponda del nilo e la vide il cestello fra i giunchi e mandò la sua schiava a prenderlo l'aprì e vide il bambino ecco il piccolo piangeva e ebbe compassione disse a un bambino degli ebrei la sorella del bambino disse allora la figlia del faraone devo andare a chiamarti una notrice fra le donne ebrei perché allatti per te il bambino va rispose la figlia del faraone la fanciulla andò a chiamare la madre del bambino la figlia del faraone le disse porta con te questo bambino allattalo per me io ti darò un salario la donna prese il bambino e lo allottò quando il bambino fu cresciuto un figlio e lo chiamò Mosè dicendo io l'ho tratto dalle acro vedete qui l'etimologia del nome Mosè leggiamo qui il testo in ebraico lo chiamò con il nome Mosè vatomer infatti diceva chi min hamayim mish tihu mish tihu scusate quindi dalle acque l'ho tirato fuori infatti il nome Mosè significa proprio letteralmente tirato fuori proprio il nome Mosè perché viene da 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 che significa proprio tirare fuori estrarre questa vuoi capire che anche la vicenda di Mosè fa già capire come Dio e come struttura le sue opere lui fa così le opere di Dio sono segnate da azione della croce prima ancora che cominciano quindi Mosè non doveva manco essere nato cioè non doveva non solo non doveva essere nato non doveva sopravvivere perché doveva essere buttato al fiume una serie di circostanze lo scampano da questo ma a un certo punto in un bitume di in un cestello con spazzo di bitume se qualcuno lo raccoglieva Mosè sarebbe morto lo raccoglie sta figa del faraone lo fa allattare perché la figa del faraone non c'aveva il latte sarebbe morto lo stesso qui vedete è così le opere di Dio nascono così nascono subito con il segno della croce Mosè era un'anima eletta aveva una missione da compiere per cui hanno poi i grandi misteri perché questi questi personaggi pensate come sotto certi aspetti la storia di Mosè presenta delle analogie con la storia di Gesù Gesù doveva essere fatto fuori da bambino e era tutto pronto è intervenuto il Signore attraverso l'angelo inviato in sogno a San Giuseppe per portare Gesù lontano dalle griffe di Erode se no Gesù sarebbe stato tra i tanti poveri ragazzini scannati dalla furia omicida di Erode e vedete che non è che vengono fatti dei miracoli come dire straordinari questa è la cosa che ci deve proprio tanto consolare è che il Signore come dire muove gli eventi suscita senza mai violentare nessun tipo di libertà le cose in modo tale che i suoi disegni si compiano quindi questo è importante leggere in queste in questo vicende questo ci dà una grandissima consolazione una grandissima consolazione di come San Paolo avrebbe scritto nella lettera ai Romani tutto concorre al bene di coloro che amano Dio ora questo era un bambino quindi quando si tratta come dire di bambini ci pensa Nostro Signore a governare quello che gli sta intorno per preservarli e salvarli o quando diventiamo grandi perché questa cosa funzioni mi si passi il termine bisogna ricordare le parole di San Paolo che tutto concorre al bene per coloro che amano Dio perché se una persona liberamente sceglie di mettersi fuori della volontà di Dio allora questa cosa comincia a scricchiolare un po' nel senso che certamente il Signore ha i piani B C D E F però se tu vuoi essere certo che tutto concorre al bene della tua vita devi sempre rimanere in stato di amicizia con Dio da quando ti metti in grazia di Dio se lì rimani e questo vuol dire rimanerci con sacramenti assidui frequenti ben celebrati preghiera osservanza scrupolosa della legge di Dio anche il riferimento a quanto abbiamo visto per chi vive nel matrimonio sul peccato di Onan e puoi stare tranquillo perché come dice il bellissimo Salmo 121 chine loianuve loishan shomer israel cioè non si addormenta non prende sonno il custode di israel non ci dobbiamo mai preoccupare di niente però quello che amano Dio ecco qui Mosè era una ameletta quindi il nostro Signore interviene prima che lui si possa mettere in condizione perché lo deve salvare dai guai quando non si può difendere da solo un bambino non è che può stare in grazia di Dio ma da grande sì ok poi c'è uno stacco perché si vede subito Mosè un pochino grandicello anche qui chi ha visto i Dieci Comandamenti di Cialto Lenso si vedono tutte queste cose qui fatto molto molto bene uno dei dei bei film che si faceva un tempo e che se uno è amante di cinema certamente è un film raccomandato insomma che si può non solo che si può vedere ma è lodevole vederlo no un giorno Mosè cresciuto in età si ricorda i suoi fratelli e notò i loro lavori forzati si ricorda i suoi fratelli ma lui non è che lo sapeva tanto che era insomma un fratello no vive un egiziano che occupiva un ebreo uno dei suoi fratelli voltato si torna e visto che non era nessuno colpì a morte l'egiziano e lo sotterrò nella sabbia qui emerge l'animo giusto no quindi Mosè che si ribella dinanzi all'ingiustizia no il giorno dopo uscì di noi i fide due ebrei che litigavano e disse a quello che aveva torto perché percuoti il tuo fratello anche qui ci fa pensare a qualcosa ricordate no durante la passione il primo schiaffo che riceve Gesù cioè se ho parlato male dimostrami dove è il male ma se ho parlato bene perché mi percuoti qui c'è il verbo che vuol dire proprio colpire la ma vi ricordate Gesù in croce no? è lì la ma sabachthani eccolo qua la ma in ebraico quindi la ma perché tahe percuoti reha il tuo amico non è proprio il tuo fratello il tuo amico e quelli gli rispose chi ti ha costituito il capo e giudice fra di noi anche qui vi ricorda qualcosa? vi ricordate quando vanno da Gesù a chiedere senti un po' di a mio fratello che divida con me l'eredità cosa risponde Gesù? proprio sarebbe interessante adesso non abbiamo tempo di andare a prendere è solo 2.14 e metterlo in parallelo con il nuovo testamento in aramaico ed in ebraico per vedere se la frase è la stessa io sono quasi sicuro che lo sia chi ti ha costituito il capo e giudice su di noi? dicono gli ebrei a Mosè e Gesù dice a quello che voleva dividere l'eredità o uomo chi mi ha costituito capo e giudice su di voi? pensi di potermi uccidere come ha ucciso l'egiziano? allora Mosè ebbe paura e pensò certamente la cosa si è risaputa il faraone sentì parlare di questo fatto e fece cercare Mosè per metterlo a morte allora Mosè fuggì lontano dal faraone e si fermò nel territorio di Madian e si lette verso un pozzo arriva un momento drammatico vedete di nuovo la vita di Mosè è nuovamente in pericolo e ci cerchere Mosè per metterlo a morte quindi Mosè doveva per la seconda volta essere morto che cosa fa? fugge e anche qui troviamo un nuovo parallelismo con la vita di nostro signore si fugge quando si sta in pericolo e si ritrova nel territorio di Madian in terra deserta ora il sacerdote di Madian aveva sette figlie esse vennero ad attingere acqua e riempirono gli abbeveratori per far bere le grege del padre ma arrivarono alcuni pastori rossi e le scacciarono e allora Mosè vedete ancora si levò a difendere le ragazze e fece bere il loro bestiavo ancora Mosè quindi l'avvocato è il difensore dei deboli questi tornano dal padre adesso non leggo tutto quanto perché bisogna arrivare in fretta al terzo capitolo che è fondamentale per la storia di Mosè e dicono guardate un uomo ci ha liberato questi dice alle figlie dov'è e Mosè va e conosce quest'uomo quindi dietro che gli dà in moglie la figlia si porà partorisce un figlio che lo chiamo Gersom classico nome ebraico vivo come forestiero in terra straniera guerra in ebraico significa proprio terra straniera e dopo molto tempo il re d'Egitto morì gli israeliti gemettero per la loro schiavitù alzarono grido di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio e qui tocca andarsi a vedere in ebraico Dio ascoltò il loro lamento Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo Isacco e Giacobbe Dio guardò la condizione degli israeliti e se ne eservenziero così è tradotto ora andiamo a vedere il testo Dio ascoltò il loro lamento Dio si ricordò dell'alleanza della sua alleanza cioè l'O con Abramo Isacco e Giacobbe Dio vide Vajar Elohim et bene Israel quindi Dio vide gli israeliti i figli di Israele letteralmente Vajedà Elohim e attenzione Dio vide e letteralmente se ne prese pensiero Dio vide e conobbe e Dio conobbe ora sapete questa la conoscenza biblica non è la conoscenza nostra non è una conoscenza formale cioè dire Dio vide Dio conobbe il conoscere biblico è un conoscere che porta sempre all'amore no? un esempio come avverrà questo dal momento che non conosco uomo? rispose la Madonna all'Arcangelo Gabriele di che conoscenza si tratta? lei sempre lo conosceva e come? stavano già fidanzati ma è la conoscenza intima quindi è quella conoscenza che marito e moglie vivono nel modo che tutti quanti sappiamo quindi è la conoscenza che fa di due una cosa sola quindi in questo verbo dice Dio vide e dice bene mi ricordo della mia alleanza a questo punto io scendo in campo e divento una sola cosa con voi e il mio amore mi porterà lontano fuori da questa angoscia quindi non è semplicemente se ne dite pensiero no? quindi sono piccole sfumature che ci divertiamo un pochino avendo un pochino presente i contesti biblici adesso nel capitolo terzo arriviamo a un punto chiave la rivelazione del nome di Dio il famoso episodio del rovino ardente che anche questo ce lo dobbiamo gustare con calma ci vorranno almeno un paio di 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 puntate per per Mosè se basta perché però si tratta di cose assolutamente basi rari ora mentre Mosè stava pascolando il greggio di dietro suo socero sacerdote di Madian anche lui condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio l'Oreb attenzione che nella saga scrittura quando si legge Oreb Oreb è la stessa cosa del Sinai sono lo stesso monte hanno due nomi sinonimici questo è molto importante perché il luogo dove Dio si manifesta a Mosè che è anche il monte di Elia l'Oreb è quello dove poi avrebbe dato i comandamenti l'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto egli guardò ed ecco il roveto ardeva per il fuoco ma quel roveto non si consumava Mosè pensò voglio avvicinarmi e osservare questo grande spettacolo perché il roveto non brucia il Signore vide che si era avvicinato per guardare Dio gridò a lui dal roveto Mosè Mosè rispose Hineni eccomi disse non avvicinarti togli i tuoi sandali da sotto i tuoi piedi poiché il luogo in cui tu ora stai Adamat Kodesh è una terra santa e qui prima rivelazione di Dio vaiomer anochi elohe avicha elohe abraham elohe itzak elohe yaakov vedete come sempre si presenta il nostro Signore anzitutto io sono il Dio di tuo padre il Dio di Abramo il Dio di Isacco il Dio di Giacobbe Dio che si è come dire legato si è coinvolto già con l'alleanza conclusa con Abramo a persone concrete precise quindi un Dio personale questo bisogna evidenziarlo proprio al protomo alla vigilia della rivelazione del nome di Dio perché qualcuno avrebbe poi detto che questo nome di Dio che è un po' io sono colui che sono eccetera eccetera santo Maso da Quina avrebbe detto giustissimamente adesso lo vedremo che quel nome è proprio il nome di Dio perché designa ciò che Dio è e soltanto Dio è un Dio l'essere l'essenza coincidono questo significa sono colui che sono comunque adesso lo vedremo Mosè allora si coprì il volto perché aveva paura di guardare verso Dio qui c'è proprio il verbo della paura quindi il verbo della paura è questo Yare che viene proprio da Yara che significa avere paura di guardare verso Dio attenzione il Signore disse ho osservato quindi ho visto ancora la misera del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti conosco infatti le sue sofferenze attenzione di nuovo al verbo che è sempre lo stesso di prima Yadatti et Mach o Vach quindi non è conosco quindi conosco vuol dire io sono coinvolto cioè mi sto coinvolgendo la sua sofferenza è la mia sofferenza evidentemente in un senso non letterale ma vero però no sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa verso una terra dove scorrono latte e miele verso il luogo dove si trovano il Cananeo l'Ittita la Morrel il Perizzita l'Eveo il Gebuseo bellissimo sono sceso per liberarlo va a Red Yarad proprio Yarad è to go down è proprio scendere no questo abbassarsi di Dio questo scendere tra noi che avrebbe trovato poi nell'incarnazione il top no per liberarlo bellissimo proprio Nazzal è proprio to take away per portarlo fuori to deliver per liberarlo per togliergli le catene dall'Egitto e per farlo salire vedete per farlo salire qui il verbo è Halah che significa salire ma è di nuovo Halifil per farlo salire dalla terra da questa terra verso una terra bella oh le cose che ci offre il Signore è spaziosa verso una terra dove scorrono latte e miele allora qui prima di arrivare al nome di Dio si ci arriviamo quindi vediamo subito un po' di interpretazione spirituale questo è perché questo vale per tutti noi cioè ordinariamente quando una persona incontra il Signore l'esperienza che fa è un'esperienza di salvezza cioè gli uomini si vanno a trovare in un mare di guai d'accordo e questo mare di guai è sintetizzabile con un termine schiavitù schiavitù di cosa schiavitù del peccato e del faraone che rappresenta il demonio fuori proprio di metafora da quella situazione con le gambe tue con le forze tue fuori non esci ha le sue belle cose tanto è vero che gli israeliti vedremo li piangeranno nel deserto dice ma lì c'è stato almeno magnavo bevevo c'era la petola delle cose ma qua non abbiamo più niente nel deserto però ha una condizione triste brutta quando si incontra il Signore si incontra qualcuno da cui ci si sente amati e che ha a cuore la mia situazione e che si abbassa per tirarmi fuori dei guai per portarmi dove? ah verso un posto meraviglioso Dio ci porta soltanto in posti belli una terra bella dove scorrono latte e miele bellissimo no? halav udebash no zavat zon halav udebash latte e miele verso il luogo meraviglioso questo luogo meraviglioso non è nient'altro che una vita di rinnovata comunione con Dio tutte le persone che hanno avuto un incontro autentico con il Signore hanno si portano nel cuore questa esperienza questa siccome esperienza dell'intervento del Signore e di questa alleanza sigillata attraverso un percorso di salvezza di liberazione ci si sente liberati meglio liberi e a volte prima che questo accada una persona deve toccare il fondo cominciare a gridare ecco il grido degli israeli è arrivato fino a me il grido proprio zahak zahak proprio urlare gridare quando uno non ce la fa più cioè vedete molte volte che cosa succede il Signore permette che noi ci troviamo in tante situazioni e che arriviamo passiamo attraverso tante cose brutte perché arriviamo a questo punto a questo punto nevralgico cioè tu devi dire non ce la faccio più e allora non è più semplice una preghiera ma sai signora mia io non avevo un gran che magari si andasse un po' meglio no tu devi proprio gridare gridare e quando gridi il Signore arriva fa uscire il mio popolo dall'Egitto tu va io ti mando fa uscire io ti mando bellissimo beh scusate l'aspirazione ma è così Mosè disse a Dio ma io chi sono per andare al farone a far uscire gli israeli dall'Egitto parentesi esperienza di tutti quanti i chiamati a grandi missioni la prima cosa è signorina sei sicuro rispose io sarò con te chi ehiye immah adonai immah fu detto alla Madonna questo è sempre come dire l'attestato della soprannaturalità delle missioni io sarò con te e questo sarà per te il segno quando dovrebbe uscire il popolo dall'Egitto servirete Dio su questo monte vedete come comincia ad annunciare quello che sarebbe successo su questo monte Mosè disse a Dio ecco io vado degli israeli e dico loro Dio dove i vostri padri mi ha mandato a cuore mi diranno qual è il suo nome qual è il suo nome qual è il suo nome ma shimu e che cosa ma omar alechem che cosa dirò loro e attenzione va yomer elohim e Mosè eccolo qua il nome di Dio ehiye asher ehiye tradotto in italiano io sono colui che sono ci prendiamo sei minuti e aggiunse così direi agli israeliti io sono mi ha mandato a voi disse ancora il Signore vedete ecco qui per la prima volta compare nella sagra scrittura il nome di Dio Adonai Yahweh cioè questo gli ebrei lo leggono Adonai ma questo qui che è evidenziato lo vedete nella sua espressione è il sacro tetragramma la Yod la He la He la Vav e la He la cui lettura corretta se si potesse leggere correttamente è Yahweh ma gli ebrei per riguardo non lo leggono mai la trasditterazione che 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 risulta che è impossibile adesso è impossibile spiegare questa cosa qui quello che c'è scritto qui se uno leggesse quello che c'è scritto è Yehva ma questa vocalizzazione del testo masoretico è impossibile è per questo che i testimoni di Geova dicono che il nome di Dio è Geova d'accordo perché da Yehva a Yehova ci manca molto poco ci manca soltanto un puntino sulla sulla sinistra di questa het ok che ci si potrebbe anche mettere ecco ma questa vocalizzazione non è quella corretta adesso è impossibile spiegarlo in 30 secondi e c'è perché cosa hanno fatto gli ebrei hanno messo sotto il tetragrammo sacro la vocalizzazione di Adonai ma come i radicali sono di meno resta soltanto lo Sheva e il Kamaz sotto la Vaf ecco e quindi loro quando trovano il tetragrammo leggono Adonai ma c'è scritto Yahweh perché Yahweh non è altro che la semplificazione di io sono colui che sono Yahweh significa testualmente Yehva colui che è ora per concludere poi ci fermiamo perché stiamo andando molto oltre a me torniamo sul nome di Dio io sono colui che sono capite che soltanto Dio può dire io sono colui che sono cioè non ho data di nascita e non ho data di morte vivo in un eterno presente e attenzione che in ebraico ECHIE è l'imperfetto del verbo KHAIA l'imperfetto ebraico qui non mi credete devo andare a avere una grammatica ebraica e andare a controllare l'imperfetto ebraico non è come il nostro imperfetto noi dovremmo dire io ero colui che ero no? se traduciessimo all'imperfetto ma l'imperfetto ebraico si può tradurre con tre tempi della nostra lingua l'imperfetto il presente e il futuro quindi sapete cosa significa questo per far capire bene l'eternità di Dio e chi è che ECHIE ASCER ECHIE si può tradurre certamente io sono colui che sono ma si può anche tradurre sentitemi bene io ero cominciamo dall'imperfetto io ero colui che ero io ero colui che sono e io ero colui che sarò si può tradurre anche io sono colui che ero io sono colui che sono e io sono colui che sarò oppure io sarò colui che ero io sarò colui che sono io sarò colui che so ora San Tommaso D'Aguino molto semplicemente cosa vuol dire io sono colui che sono allora quando tu presenti una frase che ha soggetto copula quindi il verbo essere e parte nominale quindi soggetto e predicato vuol dire che tu stai definendo una cosa definire una cosa vuol dire individuarne l'essenza dire io sono colui che sono che cosa significa? Significa dire io sono l'essere per essenza la mia essenza coincide con l'essere e questo è un concetto molto molto importante perché designa la trascendenza di Dio è l'unico si dice in filosofia ens per ipsum subsistence è il solo essere sussistente cioè Dio è l'immenso è colui che è che è sempre stato e che sempre sarà ne indica proprio la trascendenza il suo essere al di là e al di sopra di tutto ciò che è e il suo essere in quanto è lui l'essere la fonte di tutto ciò che esiste niente senza di lui è fatto di tutto ciò che esiste niente perché l'unico che ha l'essere in sé e per sé è Dio io non ce l'ho l'essere per carità io 70 anni fa non esistevo d'accordo sono nato perché qualcuno mi ha dato l'essere anche chi non crede in Dio sa benissimo che è nato da papà e da mamma non si è fatto da solo d'accordo ma Dio non l'ha fatto nessuno è semplicemente quello che è da sempre e per sempre immaginate poi quando nel Nuovo Testamento a questo viene aggiunto che la forma di essere il modo di essere di Dio è Trino quindi una sola sostanza ma tre persone oggetto tra l'altro della festa che la Chiesa celebrerà proprio la settimana prossima bene ci fermiamo qui scuso che mi sono dilungato un pochino oltre i tempi questo era soltanto diciamo un antefatto e il prologo la prossima volta seguiremo ecco Mosè che va dagli egiziani speriamo l'esodo i comandamenti dove dove riusciamo a arrivare certamente non ci prendiamo troppa non facciamo le cose di fretta facendo alcune scelte però speriamo che riusciamo anche a sintetizzare pur nella esaustività quanto più possibile bene amici ci vediamo se credete alla prossima puntata delle catechesi bibliche di oviglione di e la madonna vi protegga grazie a tutti